benissimo buonasera a tutti benvenuti a questo nuovo appuntamento proposto da alumni unitrento eh il tema di questa sera è la customer experience e ne parliamo con tre nostri alunni eh Giacomo Gambillara Luca Pennetta Iris De Vigili eh modera questa serata eh la professoressa Maria della Lucia anche lei alumna e delegata del rettore proprio per il progetto alumni eh a cui lascio eh la parola ricordando come sempre al nostro pubblico che eh le domande possono essere scritte in chat e verranno poi proposte ai nostri relatori. Buona serata a tutti e buon buon lavoro. Grazie benvenuti anche da parte mia a questa a questa serata. Al solito si tratta di un evento con gli alunni e per gli alunni. Già Heidi Garulli dell'ufficio alumni ha sottolineato che parleremo di customer experience e lo faremo con Iris De Vigili, Giacomo Gambillara e Luca Pennetta, tre esperti, alunni e professionisti di questo tema ma anche insieme a tutti gli alunni eh che sono con noi collegati questa sera molto numerosi, vedo settantanove persone su in questa in questo luogo virtuale, peraltro da un giro di tavolo ho sentito che molti dei degli alunni presenti sono anche dei professionisti in questo ambito e quindi sono assolutamente benvenute le loro interazioni proprio per indirizzare il la discussione verso i temi e gli aspetti che più sono di interesse. Quindi proprio vi esorto ad intervenire in chat magari anche se ritenete ad indirizzare precisamente le domande a a ciascuno dei nostri ospiti. Quindi grazie di essere presenti e grazie ai nostri protagonisti. Ci tengo a introdurre il tema in questo modo, ossia eh un tema che va in continuità con un altro evento alunni che si è tenuto qualche eh diciamo incontro fa eh un tema che riguardava le ricerche di mercato e nel corso della discussione è emersa la necessità di mettere in campo e di mettere in rete anche altre professionalità in modo da coadiuvare i protagonisti o meglio gli esperti del dato, i professionisti delle ricerche di mercato a indirizzare l'impresa verso un vero orientamento al mercato, ossia un orientamento che pone al centro il consumatore e quindi l'esperienza del consumatore. Parlare di customer experience è decisamente sfidante e quindi sarà eh molto interessante affrontare il tema con i nostri protagonisti perché eh l'esperienza ehm riprevede il contatto del cliente con il brand lungo numerosi punti di contatto che sono appunto luoghi virtuali o eh sono luoghi fisici ma anche situazioni ma anche interlocutori senza soluzione di continuità. Inoltre l'esperienza registra il vissuto a tutto tondo del cliente o potenziale cliente rispetto a queste interazioni. Quindi si mettono in campo non solo la dimensione razionale ma anche le percezioni sensoriali, i sentimenti, le emozioni, i comportamenti, la relazione con altri pari. Questa multicanalità e questa multidimensionalità della del vissuto quindi possono avere potenzialmente un impatto molto forte sul modello di business dell'impresa. Quindi per realizzare un design efficace della customer experience le aree di intervento ma anche gli strumenti di intervento sono davvero molteplici. Come sappiamo il digitale sta assumendo un ruolo crescente da questo punto di vista. Vuoi per la pervasività della trasformazione digitale, vuoi per la versatilità delle tecnologie. Sono luoghi virtuali, interfacce ma sono anche contenuti ma sono anche strumenti di comunicazione interattiva e vuoi perché in questa direzione alcune imprese si sono mosse per prima. Per prima e quindi hanno condizionato un po' anche il comportamento di altre imprese non necessariamente competitor ma anche hanno influenzato le aspettative dei consumatori stessi. Inoltre se da un lato c'è la sfida di un design efficace della customer experience dall'altro c'è un'altra sfida ossia quella del monitoraggio nel tempo dei risultati di questa customer experience sia in termini di soddisfazione del cliente ma sia in termini di risultati per l'impresa. Quindi stante queste sfide possono esserci delle diciamo delle aree grigie oppure delle come dire dei gap tra la volontà e l'opportunità da parte delle imprese di realizzare un vero orientamento al mercato e dall'altro invece la capacità di farlo o magari anche diciamo delle resistenze a farlo forse inconsapevoli. Quindi come vedete si tratta di un tema decisamente molto ricco e quindi passo subito la parola ai protagonisti di questa serata chiedendo loro in primo luogo di presentarsi brevemente magari di ripercorrere il loro percorso formativo e la loro professione in modo tale da illustrare quali sono le loro competenze e in questo ambito. Chiedo magari ad Iris di iniziare con questo giro di presentazione. Prego. Iris dovresti attivare l'audio. Pardon. Buonasera a tutti e grazie. Io ho studiato diciamo mi sono formata in scienze storiche quindi un percorso prettamente umanistico poi diciamo le casualità così della vita mi hanno portato ad occuparmi fin da subito appena uscita dall'università di comunicazione. Ho lavorato per delle agenzie fino a quando poi ho pensato giustamente che avendo ormai capito che quella era la strada lavorativa che avrei preso era il caso di formarsi perché effettivamente l'università non era stato il percorso diciamo il mio percorso e quindi mi sono formata con dei master post laurea alla business school delle 24 ore il primo in marketing comunicazione digitale social media. C'è stato un breve un breve master in in project management ma poi quello forse più diciamo più importante è stato un executive in marketing strategico che è stato un po' quello che mi ha mi ha poi portato a fare delle diverse scelte anche lavorative perché sono cominciato inizialmente a lavorare proprio in in ambito digitale prettamente digitale poi essendo passata appunto questo master in marketing strategico mi sono più orientata anche lavorativamente lì qualche anno fa diciamo per un mio interesse particolare nato proprio diciamo sui banchi del master ho deciso di come direi di focalizzare tutta la mia attività attività studio del potenziale cliente che io chiamo e che ormai insomma in molti chiamano buyer personas per cui quando si è cominciato a parlare di buyer personas in Italia in realtà già me ne occupavo da da parecchio tempo già comunque lo studiavo da parecchio tempo e quindi quando è diventato un concetto diffuso ho deciso di farne diciamo un'attività specifica proprio perché forse me ne occupavo un po' da 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 più tempo rispetto a a questo nuovo trend che stava nascendo e quindi mi sono focalizzata lì un paio di anni fa ho scritto un libro dedicato solo a questo e ora la mia attività è prettamente dedicata alla allo studio del potenziale cliente poi lo sviluppo eventualmente di una strategia di comunicazione più che di marketing grazie eris magari chiedo a luca o a giacomo come ritenete ho visto che vai luca vado io vado io ciao a tutti interfaccia e tecnologie della comunicazione interfacoltà tra scienze cognitive dipartimento di ingegneria informatica l'ho iniziato proprio quasi appena uscito con come corso quindi era qualcosa di veramente nuovo in italia non si conosceva ancora cosa fosse la user experience e quindi è stato è stato un bel percorso soprattutto molto innovativo ho fatto un erasmus in olanda alla radbaud university of my megan e lì ho avuto l'opportunità spammando curriculum in giro di fare un tiro un tirocinio in philips dove ho vissuto diciamo la prima grande esperienza all'interno di un'azienda enorme sono stato su due progetti sono tornato in italia ho conseguito il titolo e proseguito la mia esperienza lavorando sia in startups che in aziende più grandi come ad esempio yux e zucchetti proprio in zucchetti sono arrivato poi ad essere il product designer della divisione del brand booking expert si occupava di gestionali per catene di alberghi alberghi finché poi l'anno scorso in piena pandemia hanno deciso di mettermi in proprio di mettermi in proprio e di fare il consulente diversi per aziende allora ho aiutato aziende come luxottica di max netflix ed in red e in can tante altre a raggiungere esperienze migliori per i loro prodotti digitali e non solo in realtà non solo digitali sono adesso senior ux consultant in assist digital e ho anche fondato la 404 games che è un collettivo di professionisti nel settore del gaming che la mia seconda grande passione produciamo sia giochi nostri l'ultimo momento pubblicità e su app store e play store si chiama gloomy tunes come loony tunes ma gloomy g l o o m y siate clementi perché è pieno di bug siamo in open beta quindi anzi dateci una mano se scuola dei bugs eccetera però produciamo anche giochi per aziende che vogliono integrare ad esempio la gamification all'interno dei loro processi e anche della loro customer experience perché fa parte anche di quello ad esempio l'ultimo progetto con b max per un programma che si chiama micro mostri e tra l'altro se volete vedere anche on in questi giorni con barba scura lo youtuber non so se lo conoscete basta grazie luca giacomo anche per te il microfono scusatemi è un must ovviamente di quest'anno in remoto no dicevo adesso mi hanno reso la vita difficile hanno fatto queste bellissime introduzioni io c'è un percorso un po più lineare forse no allora io beh studio studiato economia fondamentalmente in triennale in realtà l'università di padua poi sono arrivato a trento appunto per la magistrale e mosso da dalla ricerca di un corso che andasse a trattare tematiche più legate all'innovazione e al business e quindi ho fatto appunto il master in innovation management e tra l'altro in collaborazione anche con la sant'anna di pisa quindi un anno un anno e una bellissima esperienza internazionale che tra l'altro mi ha dato anche la possibilità tramite l'università di trento di andare a fare anche uno stagio ad adelaide in australia per per tre mesi e sempre appunto andando a lavorare sui temi di ricerca e diciamo innovazione e laureato nel 2015 da lì poi mi sono spostato su su milano diciamo attorno al quale orbito ormai da da sei anni ho iniziato inizialmente con l'ottima palestra che è la consulenza aziendale quindi sono passato da da prima in bip poi in kpmg occupandomi sempre in realtà di tematiche di customer experience e in realtà anche qui se volete un po casualmente mi ci sono trovato nel senso che è entrato in questa azienda di consulenza l'unico desiderio diciamo da ne ho laureato era di lavorare su tematiche innovative nuove no insomma qualcosa che non fosse il classico project management e senza volerlo in realtà mi sono trovato dentro questa unità che si occupava di customer experience di design team in tutte tematiche molto nuove per me all'epoca e niente poi da lì ho deciso di continuare su questa strada perché avevo capito che avevo trovato qualcosa che effettivamente mi appassionava e dopo un paio d'anni e mezzo in bip mi sono spostato in kpmg che stava lanciando la practice di customer experience in italia che era completamente nuova non esisteva e un paio d'anni anche lì davvero tosti nel senso che lanciare una practice su tematiche di customer experience non è mai semplice poi per un brand come kpmg che è molto conosciuto però per altri aspetti più legati al mondo finance accounting e quant'altro è stata davvero una bella sfida però mi ha dato una bella opportunità di lavorare su progetti interessanti su clienti più disparati diciamo dal mondo del banking al mondo dell'automotive perfino il farmaceutico che sembrerebbe un mondo molto distante dall'esperienza cliente in realtà anche in quel mondo lì stanno iniziando a fare determinate tipologie di ragionamenti e poi dal 2019 quindi ormai faccio proprio tra pochi giorni due anni sono in generali e mi occupo sempre di customer experience all'interno diciamo dell'area della business transformation e sono partito mi sono imbarcato in questa nuova sfida diciamo della dell'esperienza cliente anche nel mondo assicurativo che anche qui è un bel mondo pieno di di sfide interessanti meno entusiasmante del gaming che apprezzo moltissimo purtroppo meno entusiasmante c'è sempre il tempo libero esatto esatto bene direi che sicuramente se la parlavamo di varietà dei profili a varietà delle competenze dal veloce giro di presentazione sicuramente ne avete dato riscontri quindi sicuramente un percorso formativo storico marketing strategico piuttosto che tecnologie piuttosto che business management e quant'altro e peraltro già avete in qualche modo segnalato molte esperienze esperienze diversificate sia in italia che all'estero sicuramente c'è un aspetto in comune tra voi cioè quello di aver intercettato un po' l'innovazione e quindi questa il tema così innovativo in anticipo Iris da un lato Giacomo da un l'altro e Luca da un altro ancora allora per un po' aiutarci a capire qual è stante questa varietà di competenze ed esperienze il vostro approccio a questo tema e come vi posizionate come vi distinguete e magari ci portereste una micro storia che vi riguarda salvo che appunto sia possibile raccontarla in toto magari senza parlare della impresa se non è possibile ma che ci aiuti a capire come vi posizionate su questo tema un po' l'abbiamo intuito ma se ci fate capire meglio partiamo con Giacomo questa volta va bene va bene stavo dicendo secondo te no uguale perfetto stavo pensando così a un aneddoto molto interessante che secondo me rispecchia molto quello che è un po' il modus operandi che ho maturato in questi anni che secondo me è importante quando si parla di customer experience qui per esempio parliamo di un progetto in mente che abbiamo seguito quando appunto ero in consulenza per un player dei servizi finanziari del settore banking che aveva l'obiettivo non mi ricordo all'epoca ci aveva chiesto questa ambizione di volevo volevano ridisegnare l'esperienza il design della della del loro filiale quindi cosa i clienti vivevano quando si recavano in filiale no e l'approccio che abbiamo utilizzato che secondo me è fondamentale no quando poi si parla di customer experience che poi è lo stesso che in realtà portiamo avanti anche in generali dove lavoro adesso no è stato quello di applicare diciamo una duplice analizzare il problema da un duplice punto di vista quindi da un lato una parte più qualitativa e legata agli insight qualitativi che si potevano raccogliere che all'epoca abbiamo raccolto per esempio con delle interviste fatte sia con i clienti da un lato ma anche con i dipendenti di filiale dall'altro perché era un punto di vista fondamentale era anche quello dei dipendenti che buonamente volevamo capire con loro che cosa impedisse loro nelle giornate nel quotidiano quali erano gli ostacoli che dovevano affrontare quali erano i pinpoint che incontravano nel cercare di erogare i servizi dall'altra parte capire i clienti intanto che tipologia di clienti andava in filiale perché non sono tutti uguali e quindi di conseguenza hanno aspettative e esigenze diverse rispetto all'esperienza che vogliono vivere e affiancato diciamo a questa parte di analisi più qualitativa abbiamo inserito una parte più quantitativa invece su tutti fondamentalmente se volete tutti i che erano disponibili siamo andati proprio a mani bassi diteci che cosa avete disponibile come che piai per quanto riguarda le vostre filiali e dateci e poi dopo capiremo che cosa farne e il risultato è stato molto molto interessante perché da un lato la parte qualitativa per esempio vi faccio sempre molto concreto ci ha permesso di capire che uno spazio che in filiale avevano disegnato come immaginatevi un tavolo abbastanza alto con dei tablet sopra classico come si vede spesso nel filiale che dall'azienda era stato pensato come uno spazio per avvicinare il cliente alle property digitali dell'azienda quindi far vedere fondamentalmente come funzionava l'app l'on banking per i clienti che si tracavano in filiale in realtà il più delle volte veniva utilizzato come spazio per delle micro consulenze rapide ok questo era un qualcosa che con i soli numeri diciamo non avremmo potuto captare intercettare come comportamento perché era qualcosa che abbiamo messo insieme a fattore comune da un lato quando i dipendenti ci hanno detto sai tante volte faccio fatica a intercettare il cliente perché se gli dico andiamo nel nel salottino dedicato alle consulenze piuttosto che andiamo nello studio mi dice sempre no guardi non ho tempo un'altra volta e invece c'era questo atteggiamento invece molto più soft di approcciare il cliente e che poi era fondamentale per la filiale perché permetteva di fare tutta una serie di pratiche di upselling fondamentalmente proporre prodotti più complessi rispetto al semplice conto corrente e venivano svolti su quel su quel appunto questo luogo fisico che in realtà l'azienda aveva predisposto per tutt'altro fine no e quindi da un lato abbiamo intercettato a queste tipologie di comportamenti con degli insight più qualitativi dall'altro i numeri comunque stati utilissimi perché per esempio su quello invece siamo andati a efficientare tutta una serie di operazioni che per esempio il gli utenti alla fine volevano cercavano di fare in autonomia presso i banco ma te voluti per esempio non so depositare gli assegni pagare il mav queste tipologie di operazioni alla fine non riuscendo poi si rivolgevano allo sportello e di conseguenza aumentavano il numero di operazioni sullo sportello e per esempio con i numeri siamo riusciti a intercettare questo fenomeno del fatto che c'erano molte operazioni iniziate mai terminate e su quello fondamentalmente abbiamo incerito per esempio una figura nuova che era quella dell'assistente tra virgolette al banco ma è voluto che fondamentalmente aveva soltanto il compito di aiutare i clienti a svolgere le operazioni in autonomia però perché così sgravava di carico di lavoro gli sportelli e li poteva lasciare liberi di svolgere solo le operazioni che erano disponibili solo presso diciamo lo sportello con l'utente e questa storia in realtà a me piace sempre molto raccontarla perché ha appunto questa duplice vista e che secondo me è uno degli aspetti fondamentali quando si tratta di andare a lavorare sull'esperienza dell'utente quindi non c'è una parte non puoi prescindere solo diciamo dalla parte qualitativa perché ovviamente devi essere anche supportato dai numeri ma dall'altra parte i soli numeri certe volte non spiegano tutti i comportamenti degli utenti che poi sono quelli che effettivamente fanno la differenza le aspettative e i comportamenti quindi se ho capito bene il suggerimento l'approccio è quello di integrare sia appunto dati quantitativi ma anche informazioni e se ho anche capito bene quello la dimensione dell'incontro fisico in un ambiente fisico magari in un contesto friendly ancora continua ad essere un aspetto vincente nel interagire con il cliente quindi non soltanto l'aspetto digitale Luca invece grazie Giacomo io ho avuto un po di tempo per pensare quindi decido di portare un caso molto simpatico perché solitamente io tendo a lavorare molto di più sul digitale però qualche volta è capitato appunto di fondere diciamo il mondo reale con quello di digitale e cercare di creare un'esperienza che sia quanto più coerente lineare fluida tra il passaggio appunto digital e mondo reale questo è un progetto finanziato da un grosso produttore di birra se siete stati attenti prima sapete anche qual è per quanto riguarda però un posto fisico un'azienda fisica un pub si chiama Mezzolitro Mezzolitro è un brand che ha l'obiettivo diciamo di crescere di aprire diversi punti vendita è un brand creato da poco tutto in fase diciamo di sperimentazione eccetera io sono stato chiamato proprio nella fase embrionale di quello che era un progetto ambizioso cioè quello di ricreare di creare un pub molto grande spazi molto ampi dove è possibile rivivere la stessa esperienza che tu vivi a casa quando fai una serata sportiva cioè esempio c'è la partita di calcio io non amo il calcio però c'è la partita di calcio chiamo tutti i miei amici facciamo un bel festone 10 persone birra pizza quello quello e quell'altro si va a creare una situazione conviviale e anche informale diciamo casalinga quasi no tre amici allora come fai a vivere questa esperienza fuori da casa allora innanzitutto hanno messo sette maxi schermi per tutti gli sport possibili immaginabili quindi tu dove ti giri giri ai sport eccetera poi il concetto lì abbiamo iniziato appunto a pensare a come riprodurre questa questa esperienza ma un concetto chiave era quello del della possibilità di essere autonomi solitamente quello che avviene nel ristorante è che sei vincolato da una persona che si chiama cameriere quindi io qualsiasi cosa debba fare devo passare tramite il cameriere che è una cosa giusta a mio avviso io non immagino un mondo in cui tutto si fa tramite dei solotti oppure dei telefoni dei robot che fanno tutto quanto quindi abbiamo deciso di mantenere il contatto con il cameriere per quanto riguarda la arte food ma per la parte drink quindi per la birra abbiamo installato 12 spillatrici su 12 tavoli queste spillatrici sono collegati tramite un sistema sotto il pavimento ad una sala fusti e sul sul tavolo è presente un tablet tramite quel tablet è possibile iscriversi quindi io mi scrivo molto velocemente semplicemente con il nome iscrivo me e gli altri miei amici al mio tavolo e parte il gioco abbiamo tutto abbiamo abbiamo concepito tutto quanto sotto un aspetto gaming quindi loro sono molto forti con il basket allora piace tanto il basket ci sono tanti riferimenti al basket e quindi i giocatori le persone al tavolo si chiamano player nella cassa c'è invece del carrello c'è il cestino del basket no del cesto del basket quindi abbiamo cercato di ricreare un po tutto quello che gira intorno a quella che è la brand identity e poi si ricollega appunto alla customer experience in questo progetto i miei clienti i miei customer erano di due tipi in realtà perché io dovevo da un lato cercare di consentire alle persone che accedono al pub di vivere questa esperienza dall'altro dovevo consentire però al all'esercente di gestire bene quella che era la quello che era il il processo di check out ad esempio delle casse la gestione dei tavoli la gestione appunto dei dei conti eccetera eccetera quindi abbiamo come abbiamo fatto andiamo verso i processi abbiamo fatto tanti interview tante interview abbiamo parlato con tutti abbiamo parlato con gli esercenti abbiamo parlato con i clienti quando hanno aperto noi eravamo lì a vedere come si muovevano le persone che cosa facevano e le difficoltà che avevano nell'utilizzare determinati dispositivi oppure nel fare determinati task all'interno del dispositivo dal tablet puoi appunto iscriverti però puoi anche spillare la tua birra infatti sei completamente autonomo inserisci clicchi sul tuo sul tuo sulla tua iconcina spigli autonomamente la birra quando hai finito e vai alla cassa trovi nella cassa questa è una cosa abbiamo introdotto dopo appunto monitorando e vedendo quello che succedeva durante la serata abbiamo introdotto il check out distinto per persona perché quello che succedeva è ok io voglio pagare alla romana io pago la mia tu paghi la tua diviso così come faccio questo si fa tramite la tecnologia quindi il server diciamo che poi posto lì dentro perché quella un intranet tiene in memoria quelle che sono le sessioni divise per ogni singola persona quindi questo è un esempio interessante di unione tra la parte diciamo reale e quella un po più digitale digitale perché poi in realtà ci sono degli step successivi che appunto giocano sulla gamification giocano sul fatto di poter fare determinate classifiche di avere dei premi in un futuro quando ci saranno più punti vendita di collegare tutti quanti punti vendita sotto un'unica classifica quindi di fare dei premi a livello diciamo globale settimanale giornaliero quindi il progetto è molto grande grazie Luca anche in questo caso appunto un'integrazione reale virtuale in un contesto completamente diverso in un settore completamente diverso quindi sentiamo anche adesso l'aneddoto e l'esperienza di Iris sì io diciamo che nella mia attività non mi occupo prettamente di esperienza cliente esperienza utente diciamo che il lavoro che io faccio è quello proprio di cercare di comprendere poi in funzione anche degli obiettivi aziendali il potenziale cliente o cliente acquisito poi da quello che si viene a conoscere si cerca di dargli la miglior esperienza nel rapporto con l'azienda quindi io porto come dire degli esempi un po' diversi rispetto a quelli che abbiamo sentito io tra l'altro lavoro molto con le piccole e medie imprese quindi magari certe situazioni dove si riesce a ricreare così delle situazioni come quelle che abbiamo sentito è un po' più difficile quindi diciamo che l'esperienza il miglioramento dell'esperienza del cliente anche nei rapporti con l'azienda tante volte io mi sono accorta che si annida un po' nei dettagli, nei particolari magari in piccoli aggiustamenti delle attività che già vengono fatte e possono avvenire sia online che offline chiaramente per cui penso ad esempio per una società di consulenza su progetti finanziati l'obiettivo è per questo tipo di attività quello di creare empatia io utilizzo molto questo termine di empatia creare empatia creare fiducia e inizialmente si era pensato che il video quindi vedere il viso di chi fa parte dell'azienda potesse essere il miglior modo per creare questa empatia che poi di fatto è anche un modo per creare una migliore esperienza delle persone nei confronti e nel rapporto con l'azienda in realtà facendo l'analisi di studio per l'appunto delle buyer personas ci siamo resi conto che le persone non era questo che avrebbero voluto ci siamo presi anche in anticipo quindi ci siamo risparmiati così delle perdite di tempo di risorse che forse non erano necessarie per invece andare incontro a quelle che erano sentite più come necessità delle persone che erano quelle di avere un semplicissimo pdf appunto elenco dove venivano diciamo elencati gli elementi essenziali che potevano servire per partecipare per l'appunto al eventuali finanziamenti di progetti ma quello che veramente creava un'ottimizzazione dell'esperienza della persona del cliente era quello di parlare con chi stava in azienda ma questo per un motivo anche semplice perché i progetti delle persone è qualcosa che loro sentono in maniera molto viva quindi il fatto di avere qualcuno con cui parlare a cui raccontare il progetto quindi farlo entusiasmare e far sì che nel momento in cui ci fosse un aiuto da parte del consulente a ottenere il finanziamento del progetto era una condivisione questa condivisione dava proprio il era quello che che la persona voleva voleva condividere il proprio progetto fare sì che il consulente lo sentisse proprio ci si entusiasmasse e quindi lo aiutasse poi a ottenere finanziamento questo un esempio un altro esempio per esempio si parla di customer experience ma esperienza anche dell'utente quindi user experience altro esempio società informatica che si occupa proprio di gestire tutto il reparto it delle aziende o in outsourcing o all'interno dell'azienda in questo caso soprattutto sul sito web quindi poi entriamo proprio nell'ambito digital serviva rivolgersi a persone che avevano background linguaggi competenze completamente diverse perché se ti rivolgi ad un'azienda con un reparto it significa che all'interno ci sono tecnici competenti che parlano la tua lingua il tuo linguaggio e quindi con loro devi avere per l'appunto questo devi trasmettere trasmettere fiducia idea di competenza proprio tramite un linguaggio che sia tecnico persone invece che eh devono in qualche modo occuparsi di una eh della gestione informatica ma non sono del settore quindi semplicemente è stato affidato loro il compito di farlo ma non 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 sono dei tecnici per avere un rapporto un'esperienza eh diciamo eh positiva con con l'azienda hanno bisogno di sentire di potersi affidare e quindi di avere delle persone dall'altra parte che comprendono la loro diciamo non essere loro non essere tecnici quindi che sanno avere un linguaggio semplice che sanno fargli comprendere le cose che sanno rassicurarli che sapranno eh come dire assisterli nelle tutte le problematiche che potrebbero sorgere o anticipare le problematiche e ehm ovviamente sono due mondi diversi come fare all'interno di un sito web a far sì che l'esperienza utente sia ottimale in due mondi completamente diversi due buyer personas completamente diverse e l'approccio è stato questo quello di entrare nel sito web creare due aree distinte quindi far riconoscere la persona all'ingresso chi sei sei un tecnico con un reparto IT di cui ti occupi di un reparto IT aziendale o sei una persona non tecnica che deve semplicemente in qualche misura gestire occuparsene scegli tu chi sei entri entri in un'area che ha un linguaggio di contenuti un modo di eh relazionarsi per l'appunto con con il cliente o potenziale cliente in maniera completamente diversa questo anche un modo per eh creare una user experience customer experience che sia eh che sia diciamo eh propositiva e diciamo ottimale anche se ottimale forse è sempre difficile arrivare all'ottimo all'ottimo poi altre esperienze ci possono essere nel mondo eh reale la customer experience di cui abbiamo sentito parlare da da Giacomo e Luca sono cose un po' un po' diverse insomma certo gli esempi che avete portato si riferiscono a settori appunto diversi anche per questo diciamo c'è un importante interesse perché di customer experience si parla trasversalmente ai diversi settori stante la vostra esperienza secondo voi è qualcosa l'abbiamo già l'avete già anticipato parlando di fiducia empatia relazione capacità appunto di parlare un linguaggio che arrivi all'interlocutore quale quali sono secondo voi gli aspetti che oggi hanno importanza crescente per il per il cliente in relazione all'experience e secondo voi questo questi aspetti che hanno una rilevanza crescente sono connessi o no al settore di attività gli esempi che avete fatto si riferiscono a settori diversi oppure c'è la capacità di trovare oppure identificate un denominatore comune tra quello che oggi è davvero importante per il cliente chi vuole giacomo se candidato giacomo mi sono candidato non lo so ho visto che hai aperto il microfono e allora per me significava rispondo ok adesso che lo so poi no guarda in realtà sicuramente è contestualizzata no cioè nel senso non può prescindere diciamo la progettazione di una customer experience non può prescindere dal contesto in cui il cliente si trova sia all'interno anche dello stesso customer journey quindi la stessa esperienza diciamo complessiva che il cliente vive all'interno di un settore sia ovviamente va contestualizzata settore per settore no quindi chiaro che l'esperienza che mi aspetto di vivere nel momento in cui banalmente sono nel mondo dell'assicurativo dove lavoro adesso è completamente diversa dall'aspettativa che avrò se mi muovo nel mondo dell'e-commerce per esempio no e quindi queste cambiano e ovviamente definiscono quello che è poi l'esperienza che va disegnata per il cliente perché alla fine la partita la giochi tutta lì no sul cercare di matchare raggiungere le aspettative che il cliente ha rispetto all'esperienza che si appresta a vivere nell'utilizzare il tuo prodotto il tuo servizio no e quindi nel momento in cui tu riesci a raggiungere queste aspettative lui poi sulla base di quello deciderà se rinnovare o no la fiducia no in quel prodotto in quel in quel servizio no e è chiaro che poi però ovviamente nella mente del consumatore diciamo tutte queste esperienze non è che lui ha capacità ma nemmeno io no non hai la capacità di categorizzarle per silos separati per cui so che quella è un'esperienza assicurativa per cui la metto in quel silos lì e questa cosa non inficerà mai nessun'altra esperienza che invece vivrò nel settore del turismo dove avrò aspettative diverse è chiaro che c'è una certa influenza tra quelle che sono esperienze che viviamo cross industry cross settore no quelli con quelli bravi le chiamano liquid expectation noi ci sono queste aspettative liquide no che si vanno a toccare tra settori diversi e e quindi è ovvio che quello che diciamo si si verifica in un settore poi ha repercussione che nell'altro no faccio faccio un esempio stupido no amazon a tutti dicono vediamo esempio amazon non parliamo della consegna in un giorno di cui parlano tutti che che tra l'altro adesso in realtà sta sollevando parecchi temi interessanti sulla sostenibilità del modello da un punto di vista di impatto ambientale del fatto che i camion girano mezzo vuoti pur di consegnarti le cose il giorno dopo e però pensiamo al supporto questo è un problema con un prodotto venduto tramite amazon chattato con l'operatore il tempo di una chat circa tre minuti complessivi è riuscito a risolvermi il problema e mettermi il rimborso sulla mia carta di credito ok poi vabbè tempi tecnici della carta di credito cinque giorni va bene però diciamo in tre minuti avevo risolto il problema no ora a me ma come tutti gli altri clienti utenti che hanno sperimentato un'esperienza del genere se si spostano sul mondo assicurativo è difficile spiegare allo stesso cliente che deve aspettare 90 giorni per un rimborso di un sinistro è molto difficile se nonostante lui in testa sa che si sta muovendo in un contesto diverso sa che ci sono degli step anche legali che obbligano diciamo i tempi a dilatarsi però è molto difficile no tant'è che anche nel settore assicurativo per esempio quello che stanno facendo le compagnie assicurative cos'è stanno iniziando a elaborare tecniche tipo il fast cash settlement quindi ti rimborso immediatamente questo ovviamente per sinistri molto diciamo di importi molto esigui no però immaginate un 500 euro di danno sull'auto e io ti offro subito 400 se vuoi però immediatamente oggi due tempo due giorni dal sinistro lo chiudiamo ok con un guadagno da un lato per la compagnia che ovviamente liquida sinistri con importi leggermente inferiori ma soprattutto un grande guadagno per l'esperienza del cliente no chiaro che questa è qualcosa che si può fare solo su sinistri molto piccoli e non può essere traslata su tutta la totalità però è la classica è la classica risposta no un'esperienza vissuta in un altro settore in un altro industry ha creato le aspettative che poi i clienti hanno riversato anche nel nostro settore in qualche modo bisognava rispondere no questo è un aspetto importante perché tu di fatto stai dicendo che l'aver vissuto un'esperienza positiva appunto in un altro settore dove la tempestività della risposta è stata considerata un elemento che ha grande valore per il cliente si rivolge a te e si aspetta pur in un settore completamente diverso essendo anche però consapevole di questa diversità tutto sommato magari non si aspetta quei tempi velocissimi però si aspetta che tu abbia una certa attenzione a ridurli stante le prassi grazie luca iris chi vuole mi ricollego un po a quello che diceva giacomo sulla sui settori è chiaro che nel settore finanziario è più difficile avere l'effetto wow o delle situazioni ma come come quelle che ci ha descritto per esempio luca io mi ci ritrovo molto perché lavoro più con aziende dell'ambito b2b e quindi chiaramente come dire appunto non ho tanto occasione di sviluppare situazioni dove dove questo effetto wow la faccia da padrone io me la gioco molto di più forse sul sul dare per esempio le giuste informazioni nel momento giusto cioè quando io faccio il mio studio delle buyer personas quello che cerco di capire in ogni fase del buyer journey quindi del del processo di acquisizione di informazioni che ti portano poi poi ad arrivare all'acquisto a capire che cosa vogliono sapere le persone e dove le vogliono trovare in modo che anche l'utilizzo dei vari canali di comunicazione aziendali siano sfruttati nella maniera giusta dando le informazioni giuste nel posto giusto anche all'interno del sito web capire quali sono le informazioni che devono essere posizionate diciamo nelle diverse nella diversa struttura del sito in funzione di come l'utente arriva ma anche di come l'azienda si pone nei confronti di un cliente un potenziale cliente un cliente di ritorno diciamo un utente di ritorno nel senso che ci sono aziende che si orientano molto di più a creare un sito web per esempio già vogliono che il sito web sia più orientato a un a un utente che già li conosce o altri invece ad acquisire nuovi clienti quindi evidentemente anche il tipo di informazioni e dove le posizioni cambiano quindi anche questa esperienza che l'utente ha sul sito web ad esempio è un po' in funzione anche di quello che vuole l'azienda cioè sono sempre due elementi che vanno vanno di pari passo grazie Luca io dico la mia per me c'è un comune minimo comune denominatore tra diversi settori a prescindere per me il divertimento secondo me una buona esperienza è un'esperienza che ti lascia felice divertimento magari può essere difficile da pensare in alcuni settori ad esempio come quello di Giacomo allora magari pensiamolo più come mancanza di noia quindi deve essere qualcosa di positivo ti deve lasciare un'esperienza positiva questo si può fare davvero in tantissimi modi e vanno esplorati necessariamente tanti aspetti di quella che è la customer experience io sono uno UX designer la UX è una piccola parte forse è la più conosciuta però è una piccola parte di quella che è la totalità della customer experience mi viene in mente un progetto recente per un produttore di whisky dovevo semplicemente fare una pagina per agglomerare le promozioni quindi sai quelle pagine dove vai, compri un prodotto, c'è un codice entri sulla pagina, inserisci questo codice e partecipi ad una promozione può sembrare una cosa semplicissima in realtà mi sono reso conto guardando un po' in giro che l'esperienza di tutti i competitor era sempre noioso andare ad inserire quel maledetto codice all'interno di quella landing page era ostico e poi magari ci pensi e dici ma cavolo però io quando sono andato lì al supermercato e la ragazza mi ha fermato dicendomi dai vuoi bere, vuoi provare questo whisky? è un'esperienza bella lì in quel frangente io mi sono fermato, ho fatto due chiacchiere ho bevuto un buon whisky, ho comprato una bottiglia quindi la mia customer experience all'inizio è andata benissimo con quel brand lì allora come puoi permettere, come puoi consentire poi di far perdere tutto quel hype, tutta quella beltà che sei andato a creare in quel frangente quando poi torno a casa, apro il computer devo inserire la URL che è lunga così che poi mi sbaglio quando la inserisco devo inserire un form dove ci sono 20 campi e vogliono sapere vita, morte e miracoli di me ma in realtà non ti interessa poi tutta quanta quella roba lì e quindi questo, insomma, il divertimento grazie Luca questo aspetto del divertimento oppure della mancanza di noia mi piace molto, come denominatore comune rispetto all'approccio, la consumer experience e c'è del vero perché di fatto quando noi pensiamo ad un vissuto a tutto tondo e quindi agli aspetti più positivi e quindi alle emozioni è di fatto, diciamo, l'invertimento comunque una sensazione positiva un aspetto positivo ma di fatto anche Iris prima parlava all'ascolto, all'empatia beh, l'empatia significa sintonizzarsi con l'interlocutore è vero sia sugli aspetti negativi ma anche sugli aspetti positivi e mi ricollego a questo punto ma anche di fatto all'intervento di Giacomo che ha chiamato in causa Amazon dicendo ma quali sono allora le buone pratiche per realizzare una buona user experience cioè cosa è imprescindibile cosa non può mancare e secondo voi da quale azienda oggi si potrebbero imparare delle cose salvo le vostre Giacomo questa volta non apre il microfono lo stavo per aprire dicendo adesso nessuno apre più il microfono poi ho detto se lo faccio però lo apro io beh sì, ormai ci dia il via beh, risponde chi crede ma a questo punto potreste anche lasciare tutti i microfoni aperti così non c'è più l'imbarazzo allora parto da Luca a questo punto che ha chiamato in causa il divertimento come denominatore comune e allora da chi qual è la buona pratica che è imprescindibile per una buona customer experience e secondo te da chi si potrebbe imparare salvo che sia questo l'approccio è una domanda difficile è una domanda molto difficile qual è la buona pratica della customer experience? sì, cosa secondo te non può mancare stante anche le tue esperienze su cosa, qual è appunto l'ingrediente l'approccio, l'area allora non c'è un non c'è diciamo una pozione magica un intruglio magico predefinito per poter definire una una customer experience per poterla trovare velocemente io credo che ogni caso va preso in considerazione di per sé sicuramente una componente importante è parlare parlare, interloquire tanto ascoltare tanto forse più che parlare per poter fare una customer experience come si deve bisogna avere quella empatia di cui parlava Iris quindi riuscire a captare quelle che sono le necessità dell'utente decifrarle in qualche maniera riuscire a trovare riuscire quasi a schematizzarle in realtà e trovare da lì poi quella che è la strada non mi piace avere un approccio non esiste credo un approccio predefinito a ciò però sicuramente l'ascolto è una parte una parte importante come esempio l'esempio è difficile l'esempio è molto difficile però mi piace credo ASOS conoscete ASOS è un shop online e-commerce di vestiti ASOS come del Regno Unito perché ASOS ha una funzionalità molto bella che si chiama MySizes tramite la quale che poi in realtà ce l'ha anche Yux forse Yux l'ha creata prima sì infatti io ce l'avevo lavorato su quella praticamente impara da quelle che sono le tue da quelli che sono i tuoi acquisti da quelle che sono le tue le tue taglie e quindi vai a effettivamente snellire e rendere meno noioso il processo di ricerca soprattutto all'interno di questi e-commerce che sono molto ampi e che hanno davvero tantissimi 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 prodotti tu vai a semplificare molto bene tra l'altro ASOS una cosa molto bella è che ha capito che io sono dimagrito fantastico cioè io c'è stato un periodo in cui non comprò più da ASOS ho ricominciato a comprare lui ha capito tramite ovviamente i miei acquisti che io sono dimagrito ed era molto bello riuscire a vedere queste cose in cui potevo comprare che magari prima non potevo quindi bella bella customer experience è un bel esempio alla fine grazie secondo me Maria la chiave forse è l'approccio che ha l'azienda nei confronti del cliente perché la mia esperienza mi dice che un po' tutte le aziende a parole dicono di voler mettere al centro il cliente ma poi nella pratica partono sempre dai propri schemi del proprio modo di pensare del modo di pensare delle persone che lavorano in un'azienda conoscendo l'azienda e convinte di conoscere i clienti che nella maggior parte dei casi effettivamente si li conoscono ma magari non li conoscono in certi elementi che potrebbero essere proprio gli elementi chiave che come dicevo prima ma il dettaglio il particolare magari alcune cose magari non centrali ma che rendono poi l'esperienza utente o cliente insomma migliore quindi è proprio questo il fatto di di concretamente mettere al centro il cliente e io che come attività principale ormai è diventato quello di di fare da facilitatore facilitatrice di diciamo della conoscenza del cliente che si ha in azienda per poi comprendere cosa invece di informazioni mancano quindi anche come andare a trovarle mi accorgo che anche aziende sono molto avanti su questo fronte e tendono poi a ragionare con i propri schemi e quello che mi ritrovo a fare io è proprio quello di riportarli invece a ragionare in un altro modo quindi anche il fatto di aver creato le buyer personas il lavoro viene fatto poi però quando si arriva in fondo si ha il risultato finale quindi tutti gli elementi che compongono queste buyer personas quindi che identificano per l'appunto il potenziale cliente ma poi il modo l'approccio che si ha è comunque quello di ragionare secondo le proprie logiche invece che prendere quello che avevamo creato in precedenza e ragionare su quel modello e secondo me la chiave del creare una buona esperienza cliente utente o quel che è è proprio questa quella di veramente ragionare e immedesimarsi e mettersi nella testa e nel sentiment di chi sta dall'altra parte perché purtroppo questa cosa di partire da noi è un qualcosa che evidentemente è troppo forte cioè in realtà capita anche a me cioè alle volte mi devo fare proprio una sorta di violenza per togliere questo schema comunque che è innato e dire no sto ragionando con la mia testa non con quella dell'altro e quindi secondo me è proprio questo se poi vuoi degli esempi secondo me le grandi aziende diciamo un lavoro di questo tipo probabilmente lo fanno se vogliamo entrare invece nel diciamo un po' nel mio mondo che è quello per l'appunto delle PMI non ti dirò dei nomi ma ti dirò che ci sono degli imprenditori che dimostrano di avere una sorta di essere degli imprenditori così illuminati perché hanno quantomeno l'intuizione e la comprensione del fatto che anche quello che loro conoscono dei loro clienti non è necessariamente tutto potrebbero esserci prospettive che loro non vedono per cui anche chi imprenditore che ha creato un'azienda che ce l'ha da 20 e da 30 anni che quindi i clienti li dovrebbe conoscere come le proprie tasche in realtà si rendono conto che potrebbe mancare qualcosa e che qualcosa potrebbe essere la chiave per migliorare quello che fanno nei confronti dei clienti e questi imprenditori sono per quello che io ho potuto vedere quelli che sono innamorati dei propri clienti ci sono imprenditori che quando io li ascolto parlare sento un amore viscerale non solo per il proprio lavoro ma per i propri clienti e lì nasce secondo me quel qualcosa in più che li porta poi ad avere un occhio molto più attento a tutto questo mondo insomma dell'ottimizzare il rapporto con loro il customer experience il user experience insomma come lo vogliamo chiamare qui entriamo nella sfera dei sentimenti siamo passati appunto dall'ascolto che Luca suggerisce all'innamoramento a cui Iris fa riferimento quindi per in qualche modo cambiare l'ottica da se stessi verso gli altri e Giacomo invece cosa ci dice abbasso così le aspettative pippotto sull'organizzazione aziendale no in realtà mi alleggo molto a quello che diceva Iris nel senso che il fatto di dichiarare di essere cliente centrico in realtà è una cosa poi effettivamente esserlo nella pratica è un'altra in realtà anche le grandi aziende è vero che probabilmente alcune sono più strutturate o se non altro hanno i mezzi per strutturarsi più velocemente quella è la grande differenza nel senso che l'azienda che decide di effettivamente mettere in piedi delle pratiche che mirano a disegnare una migliore customer experience mettere il cliente al centro quindi andare a lavorare anche con metodologie innovative come design thinking piuttosto che l'agile nello sviluppo delle soluzioni IT per essere più rapidi nel time to market insomma muoversi verso questi nuovi orizzonti per cercare di rispondere alle esigenze del cliente in maniera migliore è chiaro che la grande azienda ha i mezzi per farlo più velocemente quello sicuro però non è così scontato che era il punto che volevo sottolineare che è fondamentale su questo cambiamento il commitment dall'alto nel senso che è una transizione che richiede degli sforzi richiede anche degli sforzi appunto economici anche per l'azienda e quindi è necessario e fondamentale avere un commitment dal top management quindi avere un top management che è veramente convinto che sia nelle figure dell'amministratore delegato piuttosto che delle prime linee dei chief essere veramente convinto che quella è la strada da seguire per avere un vantaggio poi competitivo sul mercato perché alla fine lo si fa per quello non è che lo si fa perché far felice il cliente pensiamo che sia nel senso una nostra priorità soltanto perché ci rende felice anche noi chiaro che ci rende felice anche noi però lo si fa con l'intento di soddisfare le sue aspettative soddisfare le sue richieste per poi mantenere la relazione con quel cliente non perderlo piuttosto che acquisirne di nuovi perché l'esperienza che offriamo a noi è migliore di quella dei competitor e quindi quella parte lì secondo me è fondamentale cioè nel senso poi viene tutto il resto di abilitatori tecnici il CRM più o meno evoluto le piattaforme di data analytics tutto quello che vogliamo piuttosto che appunto lo human capital nel senso che faccio l'esempio anche di generali perché lo conosco bene appunto lavorandoci 5-6 anni fa tutto il dipartimento di business transformation non esisteva è stato creato da zero ad oggi sono più di 150 persone che lavorano lì dentro in ambiti diversi con focus diversi che vanno dagli advanced analytics alla customer experience e quindi quello che dicevo prima no la potenza di fuoco di un'azienda grossa che si muove decide di andare in quella direzione però la decisione non è partita bottom up perché c'era qualche dipendente illuminato o qualche manager illuminato ma era un commitment vero e serio e convinto da parte del top management che ha deciso proprio a piano strategico di andare a investire su questa su queste tematiche è questo un tema decisamente importante che abbiamo anche un po' anticipato cioè il fatto dello scollamento tra quello che io vorrei fare e sarebbe opportuno che facessi per tutti i vantaggi per l'impresa e poi quello che posso fare e anche in qualche modo gli ostacoli che talvolta sono anche inconsapevoli da parte dell'impresa non è consapevole di avere in realtà un approccio che è più centrico rispetto all'impresa piuttosto che invece essere orientato al cliente alcuni suggeriscono che una delle resistenze sia magari la trasformazione digitale stessa cioè per alcune imprese passare da una interazione più in ambito diciamo più tradizionale a quella più digitale possa essere vista come un costo importante magari anche per le piccole e medie imprese quindi vorrei riportare l'attenzione su l'introduzione delle tecnologie a diversi livelli proprio per migliorare l'esperienza del cliente e nel design di questa esperienza secondo voi quali sono i presupposti per inserire la tecnologia in maniera efficace nel design dell'esperienza e anche per la sua efficacia quindi non so tecnologie anche magari la realtà virtuale le chatbot piuttosto che l'intelligenza artificiale piuttosto che prima in un giro di tavolo stavamo anche parlando di tecnologie legate anche al neuromarketing rispetto in qualche modo a misurare le reazioni del nostro cliente e quant'altro quindi quali sono secondo voi i presupposti per poterla introdurre efficacemente è vero che da un lato ci sono imprese magari di grandi dimensioni oppure imprese che per ambito di attività sono più orientate in questa direzione però invece ci sono magari delle imprese più tradizionali che per l'inserimento della tecnologia in maniera massiccia nel design dell'esperienza risulta più difficoltoso più distante io credo che se si riesce veramente a partire da quello che è importante e utile e vuole il cliente quindi facendo questo lavoro di analisi sul cliente poi in funzione anche delle disponibilità delle capacità delle potenzialità che ha l'azienda si riescono tranquillamente ad integrare delle soluzioni che possano essere giusto compromesso fra quello che serve al cliente e quello che può fare l'azienda soprattutto perché perché diciamo c'è una differenza tra il portare all'imprenditore al dirigente o chiunque si occupi di prendere le decisioni finali delle idee delle proposte che vengono dall'interno diverso è invece avere la voce dei clienti che dice io vorrei questo io desidero a me serve in quel caso di fronte all'evidenza di un cliente che chiede diciamo che è molto più facile riuscire ad implementare delle soluzioni che magari potrebbero venire viste in maniera non necessaria per esempio oppure siccome magari la mentalità può essere più può essere meno tecnologica e quindi se vengono viste come delle cose appunto fuori dalla propria da proprio mood della propria portata nel momento in cui le chiede il cliente allora possono diventare anche delle priorità che si possono integrare quindi secondo me fa tanto per l'appunto far arrivare a chi prende le decisioni i desiderata del cliente in quel modo poi diciamo si trova la giusta misura per integrare quello che è necessario grazie mi collego a quello che ha detto Iris è verissimo questa cosa succede anche a me che magari i clienti mi chiamino chiedendomi di fare una determinata cosa di creare una determinata esperienza ma in realtà mi stanno chiamando con già una soluzione in mente allora questo approccio è sbagliato quantomeno si può avere diciamo un'idea di quello che si vuole fare però poi io alla fine voglio sempre ascoltare gli utenti finali è successo anche molto recentemente la scorsa settimana secondo me introdurre diciamo un processo di digitalizzazione un'esperienza online digitale o qualcosa del genere deve non deve essere disruptivo cioè non deve distruggere staccare dalla realtà deve unirsi con la realtà deve appoggiare la realtà deve renderla più leggera più divertente lo ripeto più snella quindi diciamo che è questa la cosa importante come la fai la fai tramite tramite interviste tramite appunto parlando chiedendo annotando provando testando tra l'altro perché poi si sbaglia anche tanto magari si provano a dare delle soluzioni magari all'inizio si tende un po' di più a contentare quella che è la richiesta del cliente finché poi non ci si rende conto che in realtà la strada da prendere è differente quindi bisogna accettare anche gli errori e poter fare il famoso pivot si dice lato mio io sono d'accordissimo con quello che dicevano adesso sia Luca che Iris il digitale l'ho sempre visto come un abilitatore nel senso non è non è il digitale la soluzione voglio fare una customer experience di livello alto bella sorprendente divertente la digitale non è la soluzione il digitale è un abilitatore a poter portare l'esperienza a un livello successivo in certi casi sicuramente ti aiuta perché aiuta il cliente a compiere delle operazioni in maniera più rapida o in maniera più semplice o in autonomia banalmente grande tema lo faccio in autonomia così posso farlo all'orario che voglio la sera quando provo a lavoro invece che dover stare agli orari dell'ufficio o dell'agenzia parlo caso mio però è comunque un abilitatore non è la soluzione in quanto tale nel senso che se no rischi di perdere e quello lo vediamo spesso lo vedo spesso anche adesso io con il mio lavoro e i clienti ci chiedono lo chiamano lo human touch in realtà ci chiedono tante volte dire sì bello il voice adesso io sto seguendo per esempio le presentazioni di un voice fantastico cioè la tua azienda porterà dei grandi benefici in termini di efficienza sicuramente anche per il cliente perché gli risparmierà magari di stare al telefono ad aspettare di poter parlare con un operatore e invece gli darà già le informazioni che lui stava cercando però è anche vero che dall'altra parte stai rendendo un po' meno human questa esperienza perché un cliente che invece ti chiama e vorrebbe trovare una persona che magari lo rassicura del fatto che magari la tal pratica non si è bloccata e tutto sta procedendo secondo i piani fa un po' più fatica ad arrivarci con l'operatore quindi per quello dicono il digitale è un abilitatore però deve essere anche dosato digitale o la tecnologia in generale in realtà deve essere un po' dosata diciamo con i giusti pesi perché se no rischi di rendere le esperienze alla fine poi un po' troppo disintermediate da quella che è la diciamo la relazione umana che in realtà tante volte i clienti la cercano grazie Giacomo passiamo a un altro argomento sfidante che peraltro viene proposto anche da Anna in chat come domanda e Anna dice e chiede nell'implementazione dei progetti che avete raccontato quanto è importante la fase di misurazione e monitoraggio avete mai avuto difficoltà nel definire e misurare i KPI e calcolare il ROI in queste iniziative focalizzate sulla customer experience o user experience quindi a fronte diciamo della sfida di comprendere quali sono i bisogni del nostro cliente disegnare la customer experience con aree di intervento che sono molteplici poi si tratta anche di misurare i risultati quindi un tema spinoso chi vuole rispondere a questa domanda quindi implementazione dei progetti avete quanto risulta importante la fase di misurazione e monitoraggio e quali KPI utilizzate se vuoi la prendo io all'inizio anche perché se non c'è un'omonima credo di conoscerla molto bene Anna la saluto sempre molto domande molto interessanti molto spinose adesso quindi si mantiene sempre su ottimi livelli ma allora in realtà io specie con l'esperienza in KPMG in realtà abbiamo fatto diversi tentativi nei progetti nel cercare di ricondurre quella che era la performance misurata in realtà lì con l'indice di KPMG che non so se conoscete hanno sviluppato questa sorta di indice della customer experience che si basa su sei pillar fondamentalmente che sono stati definiti come quelli fondamentali con cui ogni utente valuta diciamo le sue esperienze di interazione con un brand quindi utilizzavamo quell'indice magari invece rispetto all'NPS che magari potete conoscere di più e avevamo provato a fare diversi tentativi di ricondurre i risultati a fronte diciamo di implementazioni di iniziative particolari risultati che venivano a monitorare con questo indice rispetto appunto poi alle performance quindi secondoiamo il ROI è un'impresa difficile molto 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 difficile trovare un collegamento diretto proprio stante uno a uno tra esperienza e ritorno più che altro perché quello che ho visto tante volte è che c'è sempre un gap significativo secondo me tra il dichiarato e l'agito del cliente questo è anche nell'NPS clienti che ti danno tre poi alla fine in realtà sono loyal e stanno con la compagnia da vent'anni clienti che ti danno dieci domani invece magari se ne vanno e vanno dal tuo competitor e quindi c'è sempre questo salto nei riscontri che hai dal cliente perché alla fine se vogliamo siamo tutti dei fantastici esseri umani non siamo sempre razionali grazie a Dio e quindi non sempre prendiamo decisioni razionali utilitaristiche al cento per cento e quindi quello è sempre stato un esercizio un po' difficile quello che abbiamo provato a fare per semplificare la cosa e che anche per esempio mi sono ritrovato poi a provare a rimettere in piedi anche recentemente è utilizzare degli indici intermedi nel senso che se vado a lavorare su un'esperienza mi aspetto che quel determinato lavoro o progetto magari abbia un effetto sul churn rate su quindi meno clienti che mi lasciano piuttosto che se vado a lavorare male nell'esperienza di prevenita avrò una conversion una lead conversion maggiore quindi riconduco l'esperienza degli KPI che posso monitorare più facilmente e che so che sicuramente poi è anche più facile quantificare che cosa mi porteranno in termini di benefici sulla botta online proprio in termini di profitto se stiamo parlando di cliente che rimane con me per n anni in più piuttosto che conversion rate in fase di preventivazione ecco quindi magari quella può essere una sorta di esercizio perché il collegamento diretto ben venga se qualcuno mi illumina ma è sempre stato molto difficile è decisamente sfidante Luca la misurazione e il monitoraggio sono fondamentali nell'implementazione dei progetti raccontati ma non solo in realtà penso davvero di tantissime cose se non tutte poi ci sono alcuni casi in cui è più semplice diciamo collegare il dato a quella che poi potrebbe essere la soluzione alcune volte è un pochino più difficile ad esempio nell'esempio che ho fatto io nel progetto di Mezzolitro noi avevamo installato Hotjar che è un software che ti consente di fare monitoraggio di heat maps cioè le cosiddette mappe di calore quindi noi sapevamo dove l'utente andava a cliccare cosa faceva eccetera però ecco un clic di per sé non è che significa necessariamente un problema un clic ripetuto o altro ci sono mille modi di interpretare quel clic ripetuto quelle determinate difficoltà i tempi in cui tu stai sulla pagina se ti soffermi di più su una parte piuttosto dell'altra eccetera però lì era magari anche un po' più relativamente semplice mi viene invece da pensare un caso in cui era stato difficile ci siamo arrivati con il tempo ecco poi vedi quella è la cosa bella il lato umano appunto tu hai dei dati però poi li devi interpretare devi leggere nella mente delle persone in Gloomy Toons il gioco appunto noi abbiamo riscontrato ad un certo punto un tasso di disinstallazione altissimo esagerato nella fase di onboarding la fase di onboarding è la fase iniziale diciamo quella in cui tu accorgi accompagni per mano l'utente verso quella che poi è l'esperienza completa no quindi nel caso dei giochi è il tutorial diciamo la parte più core della processo di onboarding è quello che è il tutorial ma in realtà noi ci siamo accorti poi che stavamo dando per scontato che il gioco fosse semplice perché ci avevamo giocato talmente tante volte e voi dite ok però avete i tester sì ma anche i nostri tester avevamo giocato tante volte poi vabbè se hai dei fondi illimitati prendi i tester nuovi ogni settimana e quindi questo problema non ce l'hai però noi eravamo arrivati al punto in cui non ci eravamo resi conto del fatto che dovessimo fare un redesign sul tutorial e quindi poi andando diciamo a destra e sinistra sbagliato abbiamo toccato una cosa non cambiava niente un'altra cosa non cambiava niente eccetera abbiamo cambiato il tutorial e siamo poi abbiamo raggiunto poi un punto in cui effettivamente questo tasso di disinstallazione è sceso grazie Luca Iris vuoi intervenire anche tu sì diciamo che diciamo la questione dei dati che quando ci si pone diciamo che il mondo di KPI dati è molto molto digital poi quando ti occupi per esempio di comunicazione in termini di modifica del linguaggio e cerca di creare maggiore empatia anche diciamo la lettura dei risultati diventa molto da interpretazione perché sì ti puoi accorgere per esempio di quanto tempo può rimanere un utento sulla pagina di quanto può eventualmente compilare un form fare delle azioni però sta molto nel nel cercare di interpretare anche come quella persona si sta relazionando nei confronti dei contenuti che hai posto e non è che sia sempre così facile anche perché quando si tratta di di ambiti un po' più come dire più articolati più complessi rispetto per esempio ad un e-commerce dove entri deve essere tutto ben funzionale in modo che viene il click tutti i vari passaggi del checkout sono ottimizzati quindi arrivi cioè dove l'esperienza utente deve essere ottimizzata in questo senso quindi riesci anche a vedere dei risultati in questa in quest'ottica quando appunto si tratta di altre cose dove i settori sono un po' più più complicati anche da gestire perché per la persona che ci si approccia ci sono tanti elementi da valutare non soltanto quello che sta vivendo per esempio sul sito web piuttosto che nello store sicuramente poi la lettura dei dati non è così facile perché ci vuole proprio un grande lavoro di interpretazione che viene anche io purtroppo torno sempre lì ma in effetti è così che viene anche da quel famoso studio del cliente che si è fatto prima perché nel momento in cui si è compreso ciò che il cliente vuole lì si è dato quello che lui chiedeva se c'è un miglioramento dei risultati vuol dire che c'è stato anche diciamo un riscontro una validazione dello studio che si è fatto inizialmente perché c'è da dire anche questo io posso fare uno studio del cliente però poi con le azioni che faccio devo validare che quello che avevo riscontrato sia effettivamente vero mi è capitato anche di fare un'analisi dove il risultato era di un tipo però ho messo in atto le azioni c'era qualcosa che non funzionava e quindi abbiamo approfondito un po' e effettivamente quei risultati iniziali non erano proprio così così precisi quindi è un po' anche un partire dall'analisi riscontrarlo con le azioni e poi eventualmente ritornare sui propri passi quindi è un qualcosa di quantitativo sui dati ma anche di qualitativo proprio nell'esperienza certo sicuramente l'attività di monitoraggio da un lato della soddisfazione del cliente dall'altro di una serie di indicatori per l'impresa salvo che sia sempre così facile o scontato metterli a punto serve appunto per un continuo redesign e aggiustamento dell'esperienza la nostra conversazione è andata bene mi chiedo se ci si ecco qualche domanda appunto le vedo sbloccare adesso scusate le leggo allora cerco di ringraziamenti allora quando conducete leggo un po' di domande quando conducete delle interviste con gli utenti quale quale metodo utilizzate per analizzare i dati qualitativi raccolti come poi riportate i risultati internamente domanda di Nicola allora io per esempio ho un mio un mio un mio schema che diciamo che ho che ho anche descritto in questo in questo libro che ho scritto dove ho tutta una serie di elementi che analizzo che vado proprio a ricercare per cui quando parlo con le persone faccio le interviste poi in funzione anche di della situazione possono essere avere proprio interviste oppure dialoghi oppure anche andare alla ricerca di dettagli proprio nella in varie maniere vado a ricercare proprio quegli elementi e una volta che li ho schematizzati all'interno di per me un file Excel poi quando si parla di buyer personas in genere si ha in mente un viso un nome dei dati di vario tipo e informazioni molto stringate per me quello sì è diciamo uno schema che si può utilizzare come front però di base c'è tutta una serie di tante altre informazioni molto corpose che stanno dietro e che che vanno poi conosciute quindi una volta incassonato in questa sorta di schema poi vengono utilizzate in funzione dell'obiettivo che ci si pone o principale o delle di micro obiettivi che devono poi portare a a ciò che l'azienda desiderava voleva quindi parte da lì per appunto mettere in atto qualcun altro vuole dare una risposta a Nicola Marcon su questo punto diciamo che ti ho perso scusami Maria dicevo se qualcun altro voleva dare una risposta a questa domanda oppure intanto ne anticipo un'altra perché siamo ah Luca intanto è scomparso mi chiedevo quanto la ricerca scientifica chiede Martina D'Agostini sia di supporto al vostro lavoro cioè sono gli articoli scientifici uno strumento che usate per facilitare il vostro lavoro e quindi per esempio interpretare i dati quindi guarda una bella domanda no nel senso il totale trasparenza onestamente se stiamo se faceva se Martina faceva riferimento proprio ad articoli scientifici intesi proprio come ricerca accademica è un mondo che in molti casi almeno parlo per esperienza personale l'ho trovato un po' distante dall'effettiva applicazione poi nel business quotidiano e trovi molto più facilmente magari delle diciamo traduzioni di lavori fatti a livello scientifico magari fatte da enti magari di aziende di consulenza no faccio un esempio un caso molto interessante per esempio la famosissima piramide di Bay scusate di Maslow che poi HBR in un primo momento aveva già rivisitato andando a inserire quelli che erano gli elementi di valore poi Bain la buona azienda di consulenza l'ha tradotta in qualcosa di molto più vicino al mondo del business e utilizzabile poi per le aziende quindi può essere il caso almeno parlo per esperienza personale però l'ho sempre visto come un mondo un po' distante da quella che effettivamente è l'operatività di business di tutti i giorni grazie Giacomo Silvia Bordin scriveva in chat che concordava con Iris ma mi riaggancio all'intuo intervento dicendo che il ruolo di consulente esterno appunto è importante sia nell'azienda per portare diciamo riorientare l'azienda verso il cliente ma nel caso di Giacomo per tradurre alcuni studi scientifici in un approccio un po' più operativo è arrivata un'altra domanda spinosa Dulcis in fundo che vi giro direttamente e dice Matteo come conoscete i vostri clienti li cercate attivamente o si rivolgono a voi per via delle referenze la domanda è riferita soprattutto a Luca che ha raccontato di aver iniziato un nuovo percorso da solo in un periodo sfortunato e unico nella storia grazie e complimenti penso che devo rispondere io quindi credo di non avere problemi di connessione adesso prima mi ero un attimo staccato allora come conosco i miei clienti partiamo dal presupposto che io sono stato per gran parte diciamo della mia vita dipendente quindi ti assicuro che non è stato facile all'inizio non è stato facile soprattutto avere il coraggio perché se io adesso ripenso prima forse la cosa più difficile è stata davvero avere il coraggio di dirmi da solo ok Luca basta hai bisogno di altro di nuovi stimoli di nuove cose e quindi mi sono praticamente messo in gioco in toto e ho buttato via tutte le mie convinzioni e ho esplorato ho visto ho visto chi faceva le cose meglio di me chi le faceva da prima come le faceva le ho analizzate e ho trovato il mio metodo poi perché non esiste un metodo unico quello che ti posso dire è che sicuramente sei bloccato? no no ti sentiamo Luca mi sentite? ok quello che ti posso dire è che sicuramente un metodo corretto è a frase adesso non esiste più la vendita diretta non esiste più il io faccio questo 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 la lista della spesa ciao posso fare questo per te dai chiamami dai rispondimi no assolutamente io quello che faccio è semplicemente lavorare lavoro bene per fortuna ho i miei clienti sono tutti contenti quindi fa tanto anche il passaparola ma soprattutto faccio vedere come lavoro quello che faccio basta in modo molto semplice col sorriso con la voglia di fare ci metto tutto me stesso quindi penso che non serva nient'altro davvero soltanto il coraggio il riconoscere il fatto che tu non hai potenzialmente dei limiti quindi puoi spingerti oltre per quanto tu vuoi anche perché poi sei tu in realtà la persona più critica nei confronti ti abbiamo un po' perso Luca forse dove mi avete perso no la persona più critica la persona più critica nei confronti di te stesso dicevo sei tu non è nessun altro ok quindi in realtà vai vai dritto non ti preoccupare di niente ecco anzi grazie per questa domanda bellissima davvero grazie per la domanda e grazie a Luca un'altra domanda che è arrivata nel frattempo è da come valorizzare e qui torniamo su aspetti insomma la customer experience online per un'azienda che dato il periodo attuale si interfaccia con il cliente solo da remoto come valorizzare online nel senso quella dal vivo intendiamo nel momento in cui siamo totalmente da remoto come valorizzare la customer experience online probabilmente forse e qui magari chiedo a chi ha posto la domanda di magari fare un'integrazione forse credo che per un'azienda che in questo periodo in relazione alla pandemia credo è necessariamente forse incentivata ad agire di più sulla dimensione online proprio perché il contatto diciamo fisico l'interazione diretta fisica è più difficile e come fa a interfacciarsi con il cliente solo da remoto quando invece magari aveva un modello di business con il quale si interagiva con il cliente in maniera fisica cioè diretta spero di aver interpretato bene la domanda della nostra alunna volendo posso di nuovo rispondere io se vuole parlare a qualcun altro vai pure vai ok spero che mi regga la connessione è successo recentemente che ho fatto ho lavorato su un progetto di un cliente che produce jeans jeans custom ovviamente il jeans custom è particolare perché è un'esperienza totalmente dal vivo quindi tu vai è quasi sartoria portata a un livello diciamo un po' più industriale e quindi tu devi andare nelle misure e scegliere cosa customizzare questo questo quest'altro eccetera ti assicuro che non è facile per niente portare mi sentite? oddio ti sentiamo Luca adesso è scompasso questo è un segnale probabilmente ora eccoti mi sono spostato sei stato velocissimo il sì quindi non è stato semplice sicuramente la prima cosa che devi fare è capire l'esperienza reale come viene vissuta quindi andare ad analizzarla bene devi essere forse anche cosciente del fatto che con l'esperienza digitale è difficile davvero molto difficile riprodurre esattamente fedelmente quella reale quindi non devi neanche prendere in giro l'utente devi cercare di trovare una soluzione che possa avvicinarsi a quella reale che sia però visibilmente digitale e che in qualche maniera puoi sfruttare altre cose come ad esempio appunto il divertimento in quel caso noi abbiamo fatto un'applicazione di customizzazione in cui tu ti giravi il jeans e applicavi le cose e poi ci giocavi un pochino e poi andavi avanti la presa a misura ad esempio presa a misura la volevano fare con i numeri però anche lì è difficile cioè devi prendere il metro vai lì si serve un'altra persona che ti prende il metro e quindi abbiamo sfruttato in realtà la fotocamera del dispositivo per poter prendere diciamo delle misure in modo automatico ecco quindi bisogna ingegnarsi ecco bisogna essere fantasiosi fantasiosi creatività felicità mi collego nel senso che è sicuramente una sfida importante che anche aziende grosse in realtà hanno vissuto nel senso io l'ho vissuta in generali nel senso che il nostro è comunque un business intermediato la rete agenziale di generali non è di proprietà dell'azienda ma sono dei fondamentalmente liberi professionisti degli assicuratori sono iscritti a un albo che hanno le singole agenzie e che fanno della vendita in presenza al loro punto di forza perché conoscono i clienti sul territorio conoscono le loro storie riescono a entrare in empatia con loro e specie in momenti delicati nel senso immaginate quando un cliente sta facendo una polizza salute una polizza infortuni sta discutendo con il proprio agente i dati più sensibili di se stesso quelli che riguardano il suo stato di salute quello dei propri cari cioè sono situazioni abbastanza delicate e con la pandemia abbiamo dovuto portare in fretta e furia perché veramente l'abbiamo sviluppato nel giro di un paio di mesi tutto questo mondo su un concetto di vendita da remoto a distanza ok nonostante le agenzie in realtà l'assicurazione era tra i business in continuità come le banche però comunque i clienti non volevano uscire di casa perché avevano paura e quindi abbiamo portato questa relazione diciamo sul virtuale e qui mi aggancio quello che diceva Luca perché la cosa fondamentale secondo me è proprio quello che diceva lui di non prenderli in giro che il digitale sarà uguale al reale perché non è vero cioè non sarà mai come quando lui andava in agenzia si sedevano gli offriva il caffè si raccontavano un po' come stavano andando le cose e poi parlavano del prodotto assicurativo non è non riuscirà ad arrivare a quel livello però riesce a sostituirlo degnamente in un contesto che diciamo è complicato quindi l'obiettivo in realtà per il lato nostro era quello di fornire un tool il più semplice possibile lato cliente dal momento che abbiamo anche una clientela particolare nel senso che non sono tutti giovani e super digital addicted e quindi bisognava fondamentalmente l'obiettivo era disegnare la cosa più user friendly del mondo consci del fatto che non avrebbe replicato l'esperienza in agenzia aggiungiamo un'altra parola sincerità un'altra bella parola allora vedo che le domande cominciano insomma alcune sono arrivate sul finale se permettete vi condivido ancora questa quest'ultima domanda bravissimi e con i complimenti Giulia dice io lavoro come customer order service analyst in un'azienda lavorando da dipendente con cliente già esistenti o comunque quando vengono contattati direttamente dal venditore come posso contribuire a disegnare la customer experience e poi un'altra domanda per Luca quanto conta avere un profilo LinkedIn per farsi notare dalle aziende chiedo soprattutto per dei dubbi che mi sono venuti dopo alcune truffe subite da alcuni utenti chi risponde a Giulia e chi risponde a Francesco vabbè rispondo io a Francesco veloce veloce LinkedIn è fondamentale io tutto quello che ho fatto l'ho fatto tramite LinkedIn anche questa chiamata qui in realtà quindi LinkedIn è tutto cioè diciamo che il tuo biglietto da visita tramite LinkedIn fai vedere quello che fai quotidianamente è un social molto più bello di tutti gli altri social in realtà perché è scremato insomma di tutte le cose superflue vabbè qualcuno ancora ci prova però anche se non ho messo le storie adesso però LinkedIn assolutamente ma più che LinkedIn non è il profilo LinkedIn come in tutte le cose ma è la costanza di stare poi ad aggiornarlo postare pubblicare interagire commentare creare una community insomma fatti LinkedIn dai adesso che appena chiudi Giulia se vuoi rispondo io grazie Iris nel senso che il lavoro non è un lavoro che può fare a mio avviso per l'esperienza che ho io non è un lavoro che può fare in autonomia è un lavoro che deve essere concordato con con l'azienda poi chiaramente io non conosco il suo ambito ma ci fossero filiali aziende collegate o quant'altro è necessario il coinvolgimento un po' di tutti è necessario il coinvolgimento dei venditori che devono essere in qualche misura istruiti sulle informazioni che devono raccogliere devono portare poi alla centrale operativa e quindi una volta raccolte le informazioni da tutti i vari satelliti allora è possibile fare delle azioni ma pensare di fare una cosa del genere in autonomia a mio avviso è molto difficile grazie Iris diciamo che abbiamo discorso a lungo questa sera e quindi io chiuderei con un ringraziamento per la vostra generosità per aver condiviso le vostre esperienze le vostre riflessioni per aver risposto le domande dei nostri alunni e anche per il messaggio davvero positivo che avete dato e anche alle aperture su questi temi ci sono ancora tanti aspetti sui quali poter lavorare per una per il design e anche abbiamo visto per la la misurazione il monitoraggio della customer experience del tempo quindi grazie ancora per la generosità e bocca al lupo per il vostro diciamo futuro lavoro da dipendenti consulenti e quant'altro Heidi ci hai riaggiunti di nuovo per i saluti finali grazie grazie mille ovviamente Maria e ai nostri tre ospiti Iris Giacomo e Luca per appunto aver contribuito a rendere veramente interessante questa questa serata e grazie come sempre a tutto il nostro pubblico di alumni che ci raggiungono da tutte le parti del mondo che sei molto bello e anche studenti insomma tutti coloro che hanno seguito insomma questa serata grazie davvero e vi aspettiamo sempre numerosi ai nostri prossimi appuntamenti buona serata e grazie di nuovo a tutti arrivederci grazie grazie a voi grazie a voi